Le festività natalizie alle porte, un cantiere da far partire entro fine anno per non perdere il finanziamento, la preoccupazione dei pochi commercianti che ancora riescono a tenere le saracinesche aperte, di vedersi tappati l'accesso al negozio nel periodo più importante dell'anno. Siamo a Carbonara, un progetto di riqualificazione cambierà l'assetto di un lato di piazza Umberto I, quello che collegato a Corso Vittorio Emanuele costituisce il prospetto del centro storico. L'intervento riguarda la realizzazione di lavori relativi al collettore della Fogna Bianca, con nuovi marciapiedi, una nuova pavimentazione e nuovi posti auto. Il problema però è che i lavori dipendono da un finanziamento che impone l'inizio entro fine anno, con la possibile chiusura al traffico parziale di uno dei lati della piazza. Specialmente il mese di dicembre dove esce gente, noi che facciamo? La mandiamo fuori, è impossibile. A dicembre devono togliere, loro hanno detto il mese prossimo, per 90 giorni, vuole fare i lavori, è impossibile. Noi moriamo, di sicuro. Ci hanno promesso che non lo faranno, lo faranno dopo Natale, quindi noi ci affidiamo alla buona volontà. Secondo me chiudiamo, un po' tutti. Gli ultimi tre negozi che sono rimasti, diciamo. Gli uffici del comune in questo momento stanno studiando una soluzione che sia meno invasiva possibile, atteso che comunque sarà temporaneamente istituito il doppio senso su uno dei lati per consentire il passaggio degli autobus. Nessuno intervento, invece, sarà realizzato su corso Vittorio Emanuele. Nel frattempo, la consigliera municipale della Lega, Marielle Abbinante, ha lanciato l'appello affinché si posticipino il più possibile i lavori. Siamo a ridosso delle festività natalizie, già carenti di posti auto e pare che ne toglieranno ulteriori ancora per i lavori in corso. Per cui mi associo alla richiesta dei commercianti, chiedono al comune possibilmente di posticipare i lavori dopo le feste.